Che cosa ti ha spinto a contattarmi? A 45 anni non ho ancora trovato l'uomo che veramente si innamori di me. Diplomazia zero, sono istintiva. Mai iniziare la conversazione con la parola niente. Dimmi qualcosa di te. Ma, niente. Ho l'obiettivo per te. Azione. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ecco, adesso puoi spogliarci che questo non fa male. Mi ho incappiato. Non lo so se riesco a continuare. Prova. Mai avuto un cavaliere che si occupasse di me in questa maniera? Per quello l'ho vissuto come una favola. Ho l'ho invito. Ho l'ho invito. Ho l'ho invito. Ho l'ho invito. Grazie.